Nuove accuse della Procura di Salerno nei confronti del giudice sospeso dalla Corte d'Appello di Catanzaro, Marco Petrini, indagato in un nuovo filone d'inchiesta che lo aveva già portato all'arresto. Insieme a lui è indagato, in qualità di avvocato, il sindaco di centrodestra di Rende, Marcello Manna, l'avvocato Luigi Gullo e Francesco Patitucci, esponente di spicco della cosca Lanzino-Ruà di Cosenza. Sono indagati per corruzione in atti giudiziari con aggravante mafiosa, secondo l'accusa in tre occasioni, il 30 maggio 2019, nell'ottobre 2019 ed il 4 dicembre, sempre dello stesso anno, Petrini avrebbe ricevuto rispettivamente 2.500 euro dall'avvocato Manna, 5.000 dall'avvocato Gullo e poi infine altri 5.000 dallo stesso Gullo, d'intesa con Manna. Per l'accusa i pagamenti dovevano servire per l'assoluzione di Patitucci dall'accusa dell'omicidio di Luca Bruni, esponente dell'omonima cosca di Cosenza, assassinato in gennaio 2012. Patitucci in primo grado era stato condannato a 30 anni ma in appello era stato assolto il 4 dicembre 2019 proprio dalla corte presieduta da Petrini. Petrini e Manna sono inoltre accusati di corruzione in atti giudiziari, poiché Petrini, secondo l'accusa, dietro l'accettazione di 2.500 euro, avrebbe annullato il decreto di sequestro con conseguente revoca della confisca nei confronti di Antonio Ioele. La procura di Salerno ha chiesto l'incidente probatorio nei confronti degli indagati. Oggetto dell'incidente probatorio saranno alcuni verbali di Petrini di gennaio, febbraio ed aprile. Due intercettazioni audio-video del 30 maggio 2019 effettuate proprio negli uffici del Petrini, della Corte d'Appello e della Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro. Mentre una terza intercettazione, video del dicembre 2019, registrata negli uffici di Petrini dalla Corte d'Appello, farà altrettanto parte dell'incidente probatorio. Grazie a tutti.